Vediamo ora come realizzare un ebook utilizzando LibreOffice Writer. Per farlo dovremo scaricare ed utilizzare un'estensione per Writer. In questo modo questa cosa mi dà anche la possibilità di parlarvi di questo argomento, cioè delle estensioni per LibreOffice. Potete andare sul sito extensions.libreoffice.org dove in questo sito messo a disposizione della comunità avete la possibilità di scaricare una serie di estensioni che aggiungono chiaramente delle funzionalità a LibreOffice. Funzionalità che non sono nel pacchetto base perché generalmente si cerca di inserire le funzioni essenziali, anche funzioni avanzate, ma tante funzioni vengono demandate alle estensioni per evitare di realizzare un pacchetto chiaramente troppo grande che poi sarebbe difficoltoso da scaricare tramite internet. Sullo stesso sito vi segnalo comunque che c'è la possibilità di scaricare anche i modelli. C'è una sezione apposita dove noi mettiamo a disposizione tutta una serie di modelli, sia per lavoro, per la scuola, ci sono ad esempio dei modelli per il calendario, per le presentazioni. Come vedete sono divisi per categoria, potete scaricarli tranquillamente. Se addirittura potete anche modificarli, qualora lo ditegnate interessante potreste anche ricondividerlo con la comunità. Basta registrarsi e poi c'è tutto un sistema di upload per inserire la descrizione del modello che eventualmente andreste a creare. La stessa cosa naturalmente la potete fare anche con le estensioni. Noi in alto qui sulla destra abbiamo la possibilità di cercare quello che ci interessa. Scriviamo EPUB e vedete che escono già dei tre risultati, prima clicchiamo su search e andiamo a vedere, abbiamo tre estensioni. Noi utilizzeremo la prima, WriterToEPUB, la terza, WriterToX HTML, è sostanzialmente la stessa identica estensione, infatti credo che sia, se non ricordo male, realizzata dallo stesso sviluppatore. Ci sarebbe anche E-Likes, molto interessante come estensione, perché oltre a realizzare l'EPUB, realizza EPUB nella terza versione, la terza versione dà la possibilità anche di inserire un po' di automatismo nell'ebook, ma realizza anche dei moduli, degli object learning per la piattaforma Ilias. È una piattaforma sempre open source, concorrente di Moodle, sviluppata in Germania, è una piattaforma molto interessante. E-Likes rispetto WriterToEPUB offre sicuramente molte più funzionalità, è molto più complessa, tuttavia ho notato che dà qualche problema sulle ultime versioni di LibreOffice, quindi al momento vi sconsiglio di utilizzarla in quanto probabilmente lo sviluppatore non la sta tenendo costantemente aggiornata. Viceversa, WriterToEPUB è un'estensione molto semplice da utilizzare, offre le funzionalità base che servono per realizzare un ebook in formato EPUB, e come vi dicevo, come dichiarato che è qua, insomma può essere utilizzato con i due strumenti che poi vi farò vedere, uno è Calibre e uno è Sigil. Sigil in modo particolare permette di manipolare il file che noi andiamo a realizzare con LibreOffice Writer. Cosa dobbiamo fare? Ma semplicemente dobbiamo andare su, nel punto qui dove vedete la versione corrente, in questo momento è la 1.1.2.8, vedete che viene dichiarata la compatibilità, addirittura viene dichiarata compatibilità fino con la 5.2, è vero che in questo momento io sto utilizzando la 5.3, ma vi assicuro che funziona perfettamente. Sanzialmente basta cliccare e fare un clic e accedere alla pagina dove vi fa vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Dopodiché potete scaricarla. Quando la vedete come si chiama, adesso ve la faccio vedere già scaricata, la cosa interessante da mostrarvi è che si tratta sostanzialmente, non è un eseguibile, quindi ad esempio se utilizzate LibreOffice su una rete dove non avete accesso all'amministratore del PC dove la utilizzate o situazioni simili, non avete comunque problema perché non è un eseguibile, quindi non viene fatta una vera e propria installazione, ma è in realtà un vero e proprio file, sempre compresso, quindi con dentro tutta una serie di file XML, che il sistema vede come file di LibreOffice, tanto è vero che ha un'estensione, vedete, che ricorda molto le estensioni di LibreOffice, ODT, ODS e via dicendo. Ha un'estensione OXT, per installarla basta semplicemente fare un doppio clic e vi si apre LibreOffice, se non l'avete aperto, oppure se l'avete aperto vi apparirà una finestra di dialogo che vi chiede di installare, io ce l'ho già installata, sostanzialmente vi si apre in automatico la gestione estensioni che trovate sotto strumenti, con la richiesta di leggere l'eventuale licenza e quindi di accettare. Una volta che voi accettate, vi chiede di riavviare LibreOffice, poi dipende dalla versione, se non vi chiede di riavviare LibreOffice, vi consiglio di chiudere LibreOffice e di riaprirlo. Vedete se tutto è funzionato correttamente perché vi comparirà nella parte in alto, nelle barre, questa barra qui che vedete laterale che io ho spostato per comodità qui sul lato. Comunque se andate in strumenti, gestione e estensioni, scorrete e vedrete che avrete nell'elenco anche l'estensione che avete installato. Come sapete le barre possono essere trascinate e posizionate dove volete. Normalmente quando voi installate una estensione che abbia una barra ve la mette qua in alto, voi potete tranquillamente posizionarvi su quei trattini all'inizio e spostare la barra dove meglio credete. Adesso mi si è spostata là, la riposizioniamo qui sul lato. Bene. Allora, come funziona questa estensione? Beh, intanto aggiungiamo del testo, io mi affido sempre al testo automatico per inserire del testo di esempio, da poi da utilizzare per generare il nostro ebook. Per generare un ebook sono importanti anche qui gli stili. Vedremo poi come li utilizza. Una volta che io ho realizzato il file e ho realizzato il mio ebook, qui adesso ho inserito due volte lo stesso testo automatico, in questo momento non realizzerei un ebook perché mancano gli stili, gli stili che ci interessano, ma se anche gli chiedessi di generare il mio ebook, vedete che mi dà una finestra d'errore e mi dice che prima devo salvare il file per poi procedere alla realizzazione dell'ebook. Diamo prima gli stili al nostro file per vedere come funziona la generazione. intanto dobbiamo definire dei titoli e lo facciamo con ad esempio titolo 1, il resto lo definiamo come corpo del testo, anche qui possiamo formattare il nostro testo, quindi possiamo metterlo giustificato e potremmo anche aggiungere delle parole, delle frasi magari per dare un po' di movimento il corsivo, ma così solo per esempio, io ho inserito due titoli, uno è Lore Ipsum e l'altro è Lore Ipsum 2, anche questo lo metto come titolo 1 e anche il resto lo metto come corpo del testo e lo mettiamo giustificato, anche lo aggiorniamo come stile così, se poi aggiungiamo qualcos'altro me lo metto in automatico giustificato. A questo punto dobbiamo salvare, quindi salviamo, me lo salvo nella cartella dove sto gestendo le video lezioni, ho preparato una cartella e lo chiamiamo ebook prova e salviamo.